Ciao, io sono Stella e vi farò vedere delle foto in cui ho giocato in Under 12 e in Under 13. Questa è una foto a Casier, che ho giocato contro il Casier in Under 12. Qua invece ero in casa, che gioco con Silea, anche qua. Invece qua sono venuta a vedere Limoco con mia mamma e insieme anche un po' alla mia squadra. E questo è stato il regalo di compleanno da parte di mia mamma, che è all'iscrizione. Io qua ero già arrivata nel 2018. La fine dell'Imoco Valley Summer Camp ero distrutta, perché ho lavorato talmente tanto che ero distrutta. Qua invece si passa in Under 13, che ho giocato fuori casa insieme alla squadra dell'Under 13. Pure qua, fuori casa, che è passato un po' di tempo. Questa è la stessa partita. L'anno scorso per andare a Limoco Valley Summer Camp ho fatto un disegno, che è stato questo. Grazie e ciao.